chi è qua? per me non mi ha l'ugno! guarda che lei non proviamo neanche? io so che devo fare un po' di rincorsa è arrivato il bianco è arrivato il bianco è arrivato il bianco vinto, vinto guarda solo per che ti sente voi in ferro io vado adesso qui, bello molto bello buon 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 grande si fa tutto il viaggio con una ruota in manual e in discesa si guarda davanti buongiorno 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 ci vorrei portare a casa bastardo dentro sopra no ce n'è poca basta minchia questo buongiorno buongiorno di dichiarare anche due coglioni più tardi lo prendi sicuro avete voluto la neve e mo te la tieni oh bene ancora nessuno è salita quindi hai fatica a farla d'estate questa però con la neve potrebbe essere anche più facile ma mi sembra che la d'estate rana diretta piano ripreso in diretta con la caduta col piede è certo